Non vado a vivere in campagna, anche se potrebbe diventare un'ottima idea. Questa è una storia di una delibera, di un terreno qui a San Nicoloa, di Acente a Via della Pace, di un onorevole, ex onorevole della Repubblica Italiana, Serafino Pulcini, di un architetto, ex consigliere comunale di Futuroine, Vincenzo Falasca, e di una delibera su proposta dell'attuale assessore lavori pubblici Stefania Di Padova. Una delibera bocciata, clamorosamente bocciata, saluto il mio grande mezzo nuovo, e andiamo a fare l'intervista all'onorevole Serafino Pulcini. Lei continua a raccogliere oliva nel frattempo? No, mi fermo un attimo e vi do resta. Va bene? Ma lei è un grande lavoratore, lo è sempre stato anche quando ero in Parlamento, ma mai visto una delibera di giunta proposta da un assessore di giunta, disgiunta dagli altri membri? No, non mi era mai capitato. Sono tre anni che questa procedura è iniziata e non si sa come ci sono stati continui ostacoli, continui aggiustamenti, eppur dovrebbe essere una cosa molto semplice. Questa ennesima, come dire, questo ennesimo ostacolo mi fa anche pensare male. Io avevo la notizia che la delibera in giunta era stata approvata. Come noi sappiamo che le donne fanno i coperchi, allora andiamo a chiedere che cosa è successo all'assessore di Padova. Ma la proposta di delibera non è stata bocciata dagli altri assessori, i quali hanno espresso tutti quanti un parere, quelli presenti ovviamente un parere favorevole, dal momento che è un piano attuativo che va a riqualificare una zona importante e cruciale di San Nicolò. È la prima volta che un atto portato in giunta non viene approvata? Ma è la prima volta, forse, ecco, spostiamo l'attenzione, forse perché adesso vogliamo la certezza degli atti che vengono portati, quindi quando deliberiamo un atto vogliamo la garanzia totale, quindi forse è da domandarsi perché in precedenza non veniva fatto. Il parere contabile fa parte della legge che permette l'attuazione, quindi la deliberazione della delibera di giunta? Sì, lo sappiamo benissimo, infatti era stato precedentemente richiesto. Perché non c'era? Perché l'ufficio contabile ha ritenuto che non fosse necessario, ma in realtà i nostri uffici l'avevano richiesto.